in diretta alle 7 del mattino c'è la rassegna stampa occhio ai giornali buongiorno ben ritrovati cari telespettatori siamo arrivati al primo di ottobre iniziamo questo nuovo mese siamo a giovedì giovedì primo ottobre 2020 allora andiamo subito a vedere il santo di oggi oggi è una santa straordinaria santa teresa di gesù bambino vergine dottore della chiesa è entrata molto giovane nel carmelo di lisier in francia morì altrettanto giovane con conclusa la sua vita il 30 settembre all'età di 25 anni il sole sorgerà alle 7.09 tramonterà le 18 e 52 il tempo e vediamo allora il bollettino della protezione civile delle marche che per oggi prevede cielo sereno poco nuvoloso con precipitazioni dal pomeriggio con brevi e isolati piovaschi nelle zone montane in particolare quelle esposte ad ovest le temperature in aumento nei valori massimi venerdì 2 ottobre ancora pioggia sulla montagna della provincia di pesero e urbino mentre il peggio dal punto di vista meteo arriverà sabato 3 ottobre con precipitazioni dalla tarda mattinata con rovescio temporali sparsi localmente anche di forte intensità nel corso del pomeriggio le precipitazioni diventeranno maggiormente diffuse e di debole intensità e avremo anche vento forte soprattutto nel settore costiero e collinare soprattutto nella provincia di pesero urbino burrasca nei settori collinari e burrasca forte o addirittura tempesta nei settori alto collinari e montani dunque facciamo e fate attenzione per la giornata di sabato poi instabilità anche per domenica e lunedì e adesso giornali cominciamo dal resto del carino edizione di pesero incastrato il rapinatore ragazzino andiamo a gradare un sedicenne sospettato per l'assalto con il coltello all'edicola cartolibreria fantasy a centro pagina la fotonotizia influenza rebus vaccino in arrivo 94 mila dosi pronti a chiederne però di più c'è uno studente positivo il primo positivo in quarantena i compagni e tre insegnanti a fano mentre sul fiume foglia lavori sugli argini spunta di tutto il trionfo praticamente dell'abusivismo e poi la storia di questa coppietta che sta inseguendo il carlino ormai da due giorni una coppietta di quindicenne pare che abbiano questo forte desiderio di fare l'amore in giro per i parchi un po' il ritardo di 50 anni diciamoci la verità ma comunque rapporti sessuali però non solo al parco si finge un agente di polizia e va a rubare nelle case tra fano e valle foglia questa è un'altra notizia che troverete sul giornale di questa mattina il parco acquatico invece gonfiabili il comune di pesero non ancora incassato un euro e poi la beata di mercatello sarà santa margherita della metola questa è una notizia che troveremo e vedremo tra poco mentre il corriere adriatico su piazzale cinelli case nei garage nei negozi il prg versione leggera prevede la conversione dei locali a piano terra brancati dice però è un boomerang le critiche anche da bettini alla convenzione firmata tra rossi e il comune sempre per appunto piazzale cinelli e parla di un vero favore le prime mosse al covid hospital andiamo a civita nova il covid hospital è fermo da quattro mesi è pronto a rimettersi in moto in vista di una seconda ondata attivate le celle frigorifere ecco adesso non facciamoci del male e non facciamoci fasciamoci come si dice la testa prima del dovuto però comunque intanto è bene essere prudenti e farsi trovare non impreparati allora finito l'effetto delle vacanze adesso però il virus questo report il virus è in casa ma questo ce lo diciamo ormai da diverso tempo dipendenti dell'area vasta l'indenità pandemia resta ancora un rebus artigiani al collasso in attesa dalla cassa integrazione dal mese di maggio sempre pesero poi autisti degli scuolabus senza stipendio latundo finisce direi nuovamente nel mirino ma c'è la brutta notizia anche per il comune di fano perché c'è un drastico calo delle entrate un po' come per tutti i comuni ovviamente sono quasi 45 milioni in meno le entrate stimate dal dupp per quanto riguarda il 2021 stimato un gettito di un milione e mezzo anche dal recupero dell'evasione e poi c'è la festa dei fiori che torna in piazza del popolo a pesero accessi vigilati e meno stand allora uno studente positivo siamo sul carlino di fano classe in isolamento primo caso a fano in una quinta del polo 3 il ragazzo aveva la febbre il tampone ha confermato il covid a casa anche tre docenti poi notizia di ieri scrive sull'idea vitali rosati che quella che vede il comitato tecnico scientifico come il ministero della salute favorevoli all'impiego dei test rapidi nelle scuole si tratterebbe di introdurre uno strumento capace di abbattere i tempi di azione che passerebbero dunque dalle teoriche 48 ore di oggi ai 15 minuti orientativi le 48 ore insomma sono quelle del tampone più o meno e questi invece 15 minuti sono quelli dei test cosiddetti un po' salivari insomma una cosa che si fa in maniera molto più veloce sono un po' meno affidabili però insomma rispetto al tampone che insomma si avvicina molto al 100% però comunque è interessante soprattutto nell'ambiente scolastico come viene fatto negli aeroporti ma soprattutto dove c'è tanta gente poter avere già un'idea di come è la situazione quindi tra chi è positivo e chi invece non lo è questo alunno invece nello specifico manca dal 25 settembre ed è risultato positivo nella giornata di lunedì per quanto riguarda questi test è chiaro che adesso deve decidere il governo intanto pare che molte regioni stiano acquistando questi kit addirittura si parla di milioni e milioni di kit che verranno acquistati e poi consegnati alle regioni di conseguenza evidentemente anche alle scuole. Torniamo sempre sulla pagina di Fano del resto del Carlino la cronaca qui di taglio basso fuoco sul furgone un furgone porta valori in salvo la cassaforte è accaduto ieri in città a Fano intorno alle 12.30 le fiamme si sono sprigionate improvvisamente nel lato anteriore del furgone proprio sotto il cruscotto e probabilmente a causa di un cortocircuito il tutto sotto lo sguardo dei passanti in una zona molto trafficata scrive Davide Eusebi quella di Fano vicino agli ex capannoni dei carri del carnevale e quindi potete immaginare insomma gli operatori i vigili del fuoco che hanno operato insomma sotto lo sguardo delle persone anche delle nostre telecamere. Per i vigili del fuoco ieri è stata una giornata tra l'altro intensa perché nel pomeriggio sono state soccorse anche due persone in difficoltà si trattava di anziani che in casa si sono trovati in emergenza anche a causa di malori il Corriere Adriatico invece la pagina di Fano la dedica appunto alle entrate che sono che crollano nel 2021 crolleranno di 45 milioni di euro gettito di un milione e mezzo dal recupero dell'evasione i conti del DUP che è il documento unico di programmazione calcolato nel 2021 un drastico calo delle entrate rispetto a quanto l'amministrazione comunale di Fano ha previsto di incassare alla fine dell'anno in corso e la tabella che pubblica il Corriere Adriatico questa mattina fa vedere un po' com'è la situazione quelli che sono i trasferimenti, le entrate extratributarie, inconto a capitale eccetera eccetera la concessionaria Andreani si dedicherà invece all'attività coattiva quindi recupero diciamo di chi è in debito con il comune e quindi con l'incrocio dei dati un processo che si è concluso davanti al GUP con il rito abbreviato che vede una coppia fanese sul banco degli imputati droga nel sottotetto della bocciofila, questo è il titolo, 4 anni di carcere nascondeva la droga nel sottotetto della bocciofila e nel pacchetto scriveva pericolo amianto marito e moglie furono arrestati dai carabinieri a febbraio per spaccio di sostanze stupefacenti lui originario di Torre Annunziata, residente da tempo a Fano, 44 anni, lei invece 46 anni nei pressi della loro abitazione nella zona centrale di Fano era stato notato uno strano anni rivieni poi Luigi Benelli racconta un po' tutta la vicenda, entrambi i coniugi erano stati arrestati lui è rimasto in carcere, lei dopo la convalida invece ai domiciliari lui aveva scagionato del tutto la moglie che comunque era a conoscenza del fatto ieri mattina c'è stato questo rito abbreviato con l'imputato difeso dall'avvocato Michele Mariella non ha parlato in aula ma precedentemente aveva ammesso le sue responsabilità e per lui la condanna, come abbiamo detto è stata di 4 anni Corriere Adriatico, la Carnevalesca, sempre di Fano, Carnevalesca, addio a malincuore crisi Covid, ora penso all'azienda, Lorenzo Furlani ha parlato con Daniele Carboni direttore organizzativo che a giugno si è dimesso dall'ente carnevalesca il motivo è strettamente personale, non ci sono ragioni di incompatibilità come qualcuno ha provato a dire con la Presidente Maria Flora a Gian Marioli con la quale dice Carboni mi sento continuamente per altre cose l'impegno in Carnevalesca mi coinvolgeva tutto l'anno non che a me dispiacesse, sottolinea Carboni, ma finché ho potuto affidare l'azienda ai miei collaboratori l'ho fatto volentieri, ora non me lo posso più permettere e quindi devo tornare in azienda la causa ovviamente è per tutti, la crisi sopraggiunta con il coronavirus noi facciamo grafiche e allestimenti, dice Carboni, c'è stato un taglio superiore al 50% di conseguenza ho dovuto rimboccarmi le mani e ricominciare a fare il mio lavoro andiamo invece sulla pagina di Senigallia del resto del Carlino perde 900 euro al gioco, testate contro la slot il gestore del locale ha chiamato poi i carabinieri il 51enne sanguinante, non ho più soldi, speravo davvero di vincere e dunque poi è scattata la denuncia questa è un po' la fotografia di quello che succede poi non tutti per fortuna sfogano dando testate alle slot a volte altri o le danno da qualche altra parte oppure si chiudono in se stesse e cominciano a portare la croce del Calvario fino a volte anche alla disperazione più totale e quindi il problema delle slot machine, il problema della dipendenza, la ludopatia insomma dietro c'è un mondo, un inferno più che un mondo che spesso è sotto traccia, non si vede e questo ha perso 900 euro questo signore ha perso 900 euro e ha cominciato appunto a dare le testate sul slot machine immaginiamo che fossero gli ultimi 900 euro che aveva con sé chissà come era riuscito a prenderli, a trovarli forse lo stipendio, tutto lo stipendio insomma davvero sono situazioni drammatiche poi sempre sulla pagina del resto del Carlino rubate due fanbot nella notte al Vela Club, la Bolina di Senigallia sono strumenti didattici e sono stati rubati come purtroppo accade tante volte strada dissestata, centauro ferito sempre Senigallia, l'incidente ieri mattina in via Anita Garivaldi intorno alle 10 del mattino si finge un agente di polizia e ruba nelle case questo è un articolo che troverete a pagina 16 del resto del Carlino di questa mattina truffe segnalate tra Fano e Pesaro sono arrivate anche a noi queste segnalazioni nei giorni scorsi le abbiamo rigirate un po' anche di competenza non abbiamo avuto grandi riscontri comunque ne è uscito un articolo sul giornale questa mattina i ladri si spacciano per vigili urbani e addetti al gas e invitano i residenti ad uscire per i controlli spariti i soldi in Consiglio Comunale separato di Fano l'emergenza climatica la nostra città farà la sua parte e poi sempre sul giornale di questa mattina sul Carlino a pagina 15 stangata sulla tassa dei rifiuti scatta la rivolta questo è un altro articolo interessante che vi segnalo in rassegna questa mattina sono stati chiesti da alcuni imprenditori arretrati anche per 240 mila euro le bollette sono state inviate dalla società Andriane Tributi e coinvolto anche il sindaco questo che vedete nella fotografia è il complesso dell'azienda Profilglas vista dall'alto le tasse rischiano di penalizzare diverse aziende importanti scrive il giornale questa mattina in un momento come questo con i fatturati in forte calo è veramente una follia e nella giornata di domani il presidente di Confindustria si vedrà con il sindaco di Fano Massimo Seri dunque per quanto riguarda per quanto riguarda questa notizia che noi leggiamo adesso in piccolissima parte soltanto perché poi chiaramente va comprato il giornale allora bollette per il pagamento della Tari la tassa sui rifiuti arrivano queste bollette con cifre iperboliche 74 mila euro per esempio ad un'azienda la Vetroplast che produce cassonetti e di ben 240 mila euro alla Flonal di Paolo Andreani poi altri 100 mila euro sono arrivate alla Profilglas del gruppo Paci queste sono quelle che si conoscono ma dalle prime segnalazioni che abbiamo ricevuto fino a questo momento ma credo anche siamo soltanto all'inizio dice Andrea Barone direttore della Confindustria Marche Nord stiamo già parlando di oltre 600 mila euro di tributi per cui stimiamo che si sta parlando di milioni di euro per tutto il territorio di Fano insomma sono cifre davvero importanti sia i rappresentanti di Confindustria a partire da Papalini sia alcuni industriali in maniera autonoma hanno già tempestato di telefonate l'ufficio del sindaco di Fano Massimo Serri per avere spiegazioni su quanto sta accadendo e vedremo di capirci anche noi qualcosa di più poi sull'altra pagina invece del resto del carlino Margherita della Metola è quasi santa la beata di Mercatello sul Metauro è prossima al massimo riconoscimento della Chiesa Cattolica è una santa il cui culto è molto sentito a Mercatello in tutta la vallata ma in generale è una figura la cui storia è sempre più attuale e foriere di un messaggio positivo tra l'altro questa santa questa beata anzi Margherita della Metola insomma fu abbandonata è vissuta nel 1200 fu abbandonata dalla famiglia era cieca zoppa gobba a città di Castello entrò poi nel terzo ordine domenicano e Papa Francesco ha visto con favore l'onore degli altari quindi la possibilità di appunto di canonizzarla perché il suo culto è celebre in Sud America in Canada e nelle Filippine ovviamente soddisfazione poi da parte di chi ha portato avanti questa causa rubava nelle case invece siamo sempre sul resto del carlino è stato trovato privo di sensi un rumeno senza fissa dimora che ad Apecchio puntava su bottiglie di vino e di liquore nelle case di campagna e poi a un certo punto si è sentito male ed è stato ricoverato in ospedale andiamo a Pesaro sui gonfiabili il comune è rimasto a secco oltre 100.000 euro spesi e zero praticamente incassati se ne parlò tanto qualche stagione fa di questi confiabili che dovevano essere un po' l'attrazione dell'anno furono spesi dei soldi i gestori non hanno versato però niente alle casse pubbliche neanche per la stagione del 2019 erano previste rate di 26.000 euro l'anno evidentemente non ci sono stati gli incassi anche i cambi societari avrebbero inciso sul ritardo dei nei versamenti poi sulle silicate il New Jersey è la soluzione più sicura dice Baiocchi di Fratelli d'Italia il consigliere comunale l'aveva proposto ora dice Anas è possibile installarlo capanni depositi c'è pure una vigna ma adesso arriva lo stop all'abusivismo lungo il fiume Foglia durante i lavori per la manutenzione degli argini nell'area De Magnale è spuntato praticamente di tutto compreso una vigna scattano gli ordini di demolizione e c'è chi minaccia i tecnici del consorzio di bonifica magari uno che ci ha impiegato chissà quanto tempo con mani nude a costruire queste baracche e quant'altro adesso che arrivano le ruspe chiaramente qualche qualche nervo scatta però chiaramente essendo tutto abusivo va demolito la festa dei fiori a Pesaro torna in piazza del popolo accessi controllati e meno stand misure di sicurezza concordate con Asura e Prefettura solo 22 espositori per mantenere il distanziamento e dunque si partirà nella giornata di domani e partirà questa 66esima edizione della mostra dei fiori dalle 9.30 alle 22 parliamo del covid l'effetto delle vacanze abbiamo detto ormai è finito un contagio su 4 è adesso in famiglia il report di settembre 6 su 10 sono asintomatici quindi non hanno febbre non hanno tosse non hanno niente sono normalissimi stanno bene però hanno il covid addosso ma c'è un 2% invece di malati gravi si alza l'età media siamo a 44 anni ecco perché finendo l'effetto delle vacanze che aveva fatto scendere l'età media intorno addirittura ai 30 anni adesso che le vacanze sono finite dunque l'età media risale siamo arrivati a 44 anni meno positivi di importazione il 30% i rischi sono soprattutto a domicilio abbiamo ora 166 casi mentre a scuola 14 persone si sono infettate per quanto riguarda l'ultima settimana sono diminuiti positivi ieri 23 10 nel Piceno ma 23 nelle ultime 24 ore il Piceno sta andando alla grande insomma in classifica siamo anche ieri una decina di positivi i ricoveri invece per covid sono saliti da 29 a 30 ma sono scesi in terapia intensiva quindi adesso sono soltanto due per un attimo sono stati quattro poi tre adesso due due persone in terapia intensiva allora per quanto riguarda le elezioni regionali immaginate le ore frenetiche in questi in questi giorni in queste in cui nei quali si cerca di trovare di trovare la soluzione alla composizione di questa giunta si sta perdendo prendendo un po' di tempo la presidenza del consiglio è adesso l'ultimo nodo da sciogliere la corte d'appello intanto ieri ha proceduto alla proclamazione dei 30 eletti è anche ufficiale qui c'è stato un po' tra virgolette un colpo di scena è ufficiale la sostituzione di Micucci e quindi Carancini del PD entra in assise e nel riquadro vedete il Corriere Adriatico pubblica così come è composto ufficialmente il nuovo consiglio regionale noi andiamo a leggere soltanto gli ultimi sette nomi che riguardano gli eletti nella provincia di Pesorubino facciamo un riepilogo Andrea Biancani Michela Vitri loro sono all'opposizione quindi del Partito Democratico poi Mirko Carloni Luca Serfilippi Marta Ruggeri dei Cinque Stelle Baldelli e Giacomo Rossi vabbè ho detto dell'opposizione insomma comunque sono del Partito Democratico andiamo adesso invece a vedere la pagina sempre sul Corriere Adriatico che riguarda l'indennità dei dipendenti dell'area vasta in questi giorni c'è Maretta si minaccia lo sciopero è un'indennità prevista per chi ha lottato in corsia per chi è stato lì rinunciando a tutto ma stando semplicemente tutto il giorno dentro le corsie degli ospedali ieri c'è stato un incontro interlocutorio in regione in sostanza non ci sono i soldi necessari per pagare queste indennità oggi c'è un altro incontro tra i sindacati la sanità annovera lavoratori dicono quelli dei sindacati di serie A di serie B e poi c'è un bambino invece positivo all'asilo e adesso a Mondavio in 15 finiscono in quarantena quindi aumentano i casi positivi in ambito scolastico le persone in quarantena salgono dunque a circa 150 l'ultimo in ordine di tempo a San Michele al Fiume per essere più precisi risultato positivo il tampone eseguito su un bambino che frequenta la scuola dell'infanzia al centro cesanense che fa parte dell'istituto Gio Pomodoro di Terre Roveresche i compagni di classe e quindi anche il relativo personale in totale 15 adesso sono finiti tutti in quarantena il vaccino antinfluenzale invece in 94 mila dosi siamo pronti a chiederne però di più dice Augusto Liverani del Dipartimento di Sanità Pubblica lo raccomandiamo per tutti non solo per le fasce d'età più sensibili e Alessandro Mazzanti questa mattina ha intervistato ieri Augusto Liverani appunto e a lui ha chiesto qualche lume in più sulla questione dei vaccini contro l'influenza che non sono contro il coronavirus questa è un'altra cosa ma lo ribadiamo vaccinandosi contro l'influenza stagionale è chiaro che uno o meglio a livello di popolazione generale si ha la possibilità di già dividere e fare un po' meno confusione nel momento in cui dovesse comparire appunto il covid se uno ha il vaccino contro l'influenza ma prende l'influenza chiaramente al 90% ha il covid essendo vaccinato contro l'influenza quindi serve anche per avere una diagnosi un po' più veloce una discarica dove è nato Don Cesare invece sulla Valle Foglia scoperta una montagna di rifiuti alla Psella davanti al casolare che diede i Natali allo storico parco di Tavuglia la denuncia del presidente di Monsa Batis dice creiamo una mappa della vergogna e raccogliamo segnalazioni questo è il cumulo di mondizie che è stato segnalato tra Monte Labate appunto e la Psella a Fossombrone Tari approvate le agevolazioni per aiutare imprese e famiglie confermato lo stanziamento di 250 mila euro ecco chi ne può beneficiare e poi da Fossombrone sempre i cartelli stradali abbattuti come passatempo la deviante emulazione tra ragazzi in età scolare apri avviati nella diocesi tre processi di accoglienza la diocesi quella di Fano il percorso di integrazione delle famiglie straniere ispirate da Papa Francesco lavoretti impossibili senza soldi per la benzina oltre 10 mila artigiani attendono la cassa integrazione di maggio Monaldi della CGL dice la situazione estrema per un meccanismo inceppato visto che i soldi ci sono manca ancora il via libera della Corte dei Conti speriamo di averlo la prossima settimana intanto gli autisti dello scuola bus senza stipendio d'aprile dipendenti della Tundo erogata solo la parte della tredicesima niente quattordicesima ferie permessi e TFR in arrivo ad Urbino migliaia di nuovi contatori elettrici e distribuzione ha iniziato la sostituzione degli apparati il sindaco Gambini dice Enel fa un importante investimento nel nostro comune in arrivo 1700 punti luce installate colonnine per caricare le automobili si allunga la mostra su Raffaello Raffaello una mostra impossibile inaugurata quest'estate al collegio è stata prorogata fino al 18 di ottobre siamo allo sport la vis chiede fiducia per gli abbonamenti ci vuole l'ottimismo dalla prossima settimana tessere in vendita rimborsi se gli stadi non riapriranno anche in Spagna e Germania si è fatto così si spera in un cambio di rotta in regione il Fano il Fano si regala a Baldini eccolo qua nella fotografia a centro pagina l'attaccante alla fine ha accettato di tornare a vestire la maglia granata dove si era trovato molto bene mi sono voluto guardare attorno ma il canale con l'alma era rimasto dice lui sempre aperto il corteggiamento serrato del direttore generale Bernardini e del DS Traini è andato dunque a buon segno Urbino K.O. all'esordio ma la prestazione c'è stata il DG Lucarini analizza la partita persa contro la San Giustese con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa rassegna che tornerà domani mattina come sempre alle 7 io vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con occhio alla notizia il nostro telegiornale arrivederci a presto